Buonasera a tutti, oggi ho il piacere di avere in studio con me il sottosegretario alla salute l'onorevole Davide Faraone, che ringrazio per questa partecipazione. Caro Davide, come mai questa nomina sottosegretario alla salute? Ti devo dire che io sono stato colto di sorpresa perché tu avevi operato con tanto entusiasmo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e poi tutta ad un tratto ti ritrovo all'assessorato alla salute. Capisco che non è una diminuzione, però volevo capire quali sono stati i motivi che ti hanno indotto, ti hanno portato in un altro posto rispetto a quello in cui tu avevi lavorato con tanta forza, con tanta convinzione. Ma è cambiato un governo, nel senso che c'è stato il referendum, c'è stata una sconfitta referendaria, un Presidente del Consiglio che aveva detto che si sarebbe dimesso se avesse prevalso il no, quindi quando è cambiato il governo anche io ho preferito cambiare delega, visto che si era esaurita una stagione, si è fatta una riforma sulla scuola importantissima, si è chiusa quella fase, se ne apre un'altra, mi andava di costruire un percorso legato ai temi dell'autismo, ai temi delle disabilità, della salute mentale, che è una questione che sto affrontando con altrettanta dedizione, sono diventato Presidente della Fondazione Autismo qualche mese fa e quindi faccio questa nuova avventura, convinto anche che c'è un passaggio sulla Sicilia importantissimo in queste settimane da compiere, che è l'approvazione della rete ospedaliera e lo sblocco dei concorsi per assumere i precari della sanità, abbiamo chiuso il percorso di assunzione di tutti i precari della scuola, ne abbiamo assunti 13.000 in Sicilia e quindi credo di poter essere utile anche nella chiusura di questo percorso che va avanti da 20 anni, se è precario della sanità da 20 anni bisogna interrompere questa situazione di precarietà. Tu come ritieni di avere lavorato nel Ministero della Pubblica Istruzione? Tu hai creduto fortemente sulla buona scuola, però ti ha creato qualche problema, forse un problema di incomprensione, sei stato accusato di volere danneggiare le famiglie, di volere spostare gli insegnanti in un altro posto, insomma c'è stato di tutto, però forse poi alla fine si ha compreso che l'intento del governo era quello di stabilizzare questi posti di lavoro e creare delle prospettive certe ai lavoratori. Sì, io mi ispiro molto a Woody Allen da questo punto di vista, nessuno che non vuole cambiare le cose, chi vuole cambiare le cose di fatto attira critiche, chi decide di mantenere tutto per come è il miglior modo per non apparire, per non attirare su di sé incomprensioni e criticità. Noi abbiamo deciso di fare una riforma della scuola imponente che vedrà i suoi effetti immediatamente sulle assunzioni, l'ho detto poco fa, 13.000 insegnanti che finalmente diventano insegnanti a tempo indeterminato e non più precari. Abbiamo introdotto l'alternanza scuola-lavoro che io credo essere un fatto storico per questo Paese. Tutti i Paesi europei che l'hanno introdotta parecchi anni fa sono i Paesi a più basso tasso di disoccupazione. Noi abbiamo fatto questa scelta importantissima. Io so che quando introduci queste riforme così forti crei criticità, soprattutto nel mondo della scuola. Ogni riforma nel mondo della scuola è molto discussa, ma abbiamo preferito fare anziché galleggiare. Potevamo benissimo lasciare i gradatori di precari lì ed evitarci ogni criticità. abbiamo deciso di agire. Naturalmente io credo che nel breve e nel lungo periodo gli effetti positivi di questa riforma si vedranno. Credo che questa sia stata la scelta più azzeccata per un settore che è strategico per il Paese. Se funziona la scuola, se funziona l'università, funziona. Il Paese è il suo futuro. Senti, 500 milioni di fondi PON per il tempo pieno, tu pensi che basteranno o ne occorreranno altri? Ma intanto una bellissima misura. Il mezzogiorno è la parte del Paese in cui il tempo pieno è una percentuale irrisoria. Nel centro-nord invece le scuole in tempo pieno sono tantissime. Quindi 500 milioni ci servono per dare strumenti alle scuole per agire. Accanto a questo ci sono i 2 miliardi e mezzo spesi per la buona scuola, che vuol dire più insegnanti e quindi più materiale umano per praticarlo il tempo pieno. I 500 milioni servono per dare risorse per le attività che si devono compiere nel pomeriggio e soprattutto per attrezzare menze, che è uno degli strumenti che manca alle scuole per poter praticare il tempo pieno. Naturalmente è un inizio, bisogna investire sempre di più. Il nuovo ministro porterà avanti la buona scuola o ci saranno problemi secondo te? Ci sono degli impegni precisi che deve essere completato il percorso? Noi abbiamo sempre detto che quando si è avviata questa riforma, Ege 107, si partiva ma ci sarebbe stato bisogno man mano di accorgimenti. C'è l'idea per cui tu non inizi mai, non fai mai una riforma perché hai paura di creare dei disagi, un'idea che noi abbiamo sempre rifiutato. Noi abbiamo fatto la riforma, abbiamo saputo sin dall'inizio che alcune cose sarebbero dovute correggere in corso d'opera. Il ministro Fedeli secondo me ha tutte le caratteristiche per poter mettere in campo queste correzioni. Senti, ora sei sottosegretario alla salute, ma questo che cosa vorrà dire? Tu già hai l'idea di quale percorso vuoi proseguire. Poco fa hai parlato di autismo, della fondazione per l'autismo, però chiaramente non ci possiamo fermare a queste solo iniziative. per la sanità è un campo molto, molto compresso. Tra l'altro tu hai affermato che la domanda di salute, di prevenzione, di qualità della vita del nostro Paese è elevata e dobbiamo essere all'altezza della sfida, dalla prevenzione alla cura. Ecco, in che modo tu pensi di realizzare molto questo? Io sono contento che tu fai il scenno alla prevenzione che è un argomento che molte volte non viene affrontato nella giusta misura, mentre noi sappiamo che prevenendo chiaramente si risolvano parecchi problemi e si diminuiscono paradossalmente quelle che sono le spese per la sanità. Assolutamente sì, leggerete tutti i giorni dei fatti che accadono in pronto soccorsi stracolmi. Molto spesso quello che accade è che il cittadino trova nel pronto soccorso lo strumento immediato, a volte unico ed esclusivo per affrontare delle emergenze. Noi dobbiamo riuscire a far emergere e costruire sempre più alternative pronto soccorsi. Il pronto soccorso si va per le emergenze, per gli interventi che necessitano un pronto intervento. Bisogna far funzionare strutture che accanto a queste invece si occupino di quelle che non sono emergenze ma naturalmente stanno dentro il diritto alla salute. Ora, su questo un'azione di prevenzione è assolutamente indispensabile e la sinergia, il rapporto con la scuola da questo punto di vista è decisivo. Riuscire a costruire educazione alimentare, educazione alla salute nelle scuole è il miglior modo per prevenire le malattie. Su questo bisogna investire, noi l'abbiamo fatto anche lì, con uno dei passaggi alle forme della buona scuola è la flessibilità sulla didattica. Gli insegnanti e dirigenti scolastici hanno la possibilità di introdurre materie come l'educazione alimentare a scuola e lo possono fare in libertà senza nessun vincolo da un punto di vista ministeriale. In più ci sono tutti i livelli di assistenza, che sono quelli che abbiamo introdotto con ILEA, le novità delle malattie rare, le novità dell'introduzione, ad esempio, dell'autismo anche tra ILEA, il fatto che ILEA possono essere aggiornati in tempi più stretti rispetto ai tempi lunghissimi a cui siamo stati abituati in questi anni. Cambiavano le malattie, se ne scoprivano di nuove e ILEA rimanevano quelli di 15 anni fa. Oggi invece una commissione che abbiamo insediato li può aggiornare passo passo e costantemente. Credo che queste sono delle rivoluzioni introdotte importantissime, così come la legge sul dopo di noi che è stata introdotta in questa legislatura, di cui beneficeranno gli italiani. Io vorrei che tu parlassi ancora di più dei livelli essenziali di assistenza, perché sono molto importanti, soprattutto che cosa significano per le famiglie, oltre che per i soggetti colpiti da determinate malattie. I livelli essenziali sono quelli a cui si fa riferimento quando si parla una società democratica. Tutti i cittadini hanno diritto all'assistenza, al di là del reddito e della capacità di poter spendere risorse sulla propria salute. Noi dobbiamo garantire a tutti i livelli minimi e dobbiamo farlo a prescindere anche dalla città e dalla regione di nascita. Quando con il referendum noi tentammo di introdurre l'uniformità del sistema sanitario nazionale perché pensavamo proprio a questo. Oggi un cittadino che nasce a Milano ha una possibilità di intervento sulla sua salute molto più efficace e incisiva di un cittadino che nasce a Palermo. Noi dobbiamo invece costruire le condizioni affinché la sanità siciliana funzioni allo stesso modo. Quindi bisogna riequilibrare, bisogna investire di più e bisogna fare in modo che chi governa uno Stato, una nazione, abbia la forza di mettere a livello tutte le regioni d'Italia. Altrimenti non siamo in una società democratica ma siamo in una società in cui vale il censo, vale il reddito per potersi curare. Questo è intollerabile. Senti, Presidente della Fondazione Italiana per l'Autismo. Tu hai sfiorato già diverse volte questo argomento ma è sicuramente un argomento che ti rende orgoglioso per tanti motivi. non so se tu ne vuoi parlare. Assolutamente sì. Perché chiaramente non è facile parlare di certi argomenti quando si è persone interessate. Il tuo caso ormai è noto a tutti. Per la verità tu non ne avevi parlato mai con nessuno. Quindi c'era questa... io non la chiamerei sofferenza. c'era questa... come ti posso dire... questa lotta che tu dovevi combattere non con te stessa e nemmeno con tua figlia ma con le istituzioni che poi hai potuto affrontare in maniera diversa da sottosegretario prima alla scuola e ora a maggior ragione alla sanità. Però tutto questo ti ha spinto a creare questa fondazione. Passerei alla storia chiaramente perché è un atto importantissimo e te ne dobbiamo essere tutti grati. Ecco, che cosa ci puoi dire di questo? Ma io nella prima fase della vita... della mia vita politica avevo deciso di non parlare di questo fatto che è naturalmente un fatto privato. Quando nasce una bambina autistica è un fatto che riguarda il genitore e il papà più che l'uomo politico. Poi invece ho deciso... mi sono convinto del fatto che invece se ne avessi parlato, se avessi dedicato il mio impegno pubblico anche in questa direzione sarei stato più utile sia a mia figlia che a tutte le bambine e bambini autistici, le ragazze e ragazzi, le persone autistiche di questo paese. Quando ti accorgi che tua figlia aveva questo problema? Ma io mi sono accorto di questa disabilità di mia figlia quando mia figlia aveva due anni. Sconoscevo di fatto l'autismo se non per un fatto mediatico. Tanti di noi sono convinti che l'autismo sia Rain Man, quel film in cui ci sono diciamo queste idee sull'autismo che sono delle idee un po' cinematografiche per cui addirittura essere autistici è un fatto che ti dà doti in più rispetto agli altri. L'autismo io lo approfondisco su Google come quasi tutti i genitori che si ritrovano per la prima volta ad affrontare questo tipo di disabilità che diventa sempre meno rara, purtroppo è sempre più diffusa in questo paese, lo spettro autistico è talmente vasto che comprende ormai migliaia e migliaia di ragazzi e naturalmente lo scopro, affronto con difficoltà ma anche con grande passione questa perché essere genitori di una bambina autistica ti dà grandi risorse in più, ti dà strumenti per comprendere di più la società, comprendere di più l'altro e naturalmente ho deciso a quel punto di fondare questa fondazione dell'autismo, chi interveniva sull'autismo nel passato lo faceva in maniera frammentata, migliaia di associazioni in tutte Italia e poi tanti genitori abbandonati. Aver fatto un'unica fondazione grazie anche al contributo della RAI che ci ha dato la possibilità di promuoverla, questa fondazione il 2 aprile già per due anni di seguito abbiamo raccolto migliaia e migliaia di euro che abbiamo destinato alla ricerca e naturalmente è un primo passo, abbiamo introdotto per la prima volta la legge sull'autismo in questo paese, fatto storico, ho parlato della legge sul dopo di noi, vi ho detto l'introduzione dell'autismo su ILEA, stiamo centrando tanti successi che credo siano un fatto importante per il paese, l'ultima soddisfazione conto di prendermela insieme a tutti i genitori con la riforma del sostegno e dell'inclusione a scuola, che è un settore abbandonato, che è stato abbandonato pur essendo stato il nostro paese, il paese che ha introdotto l'inclusione a scuola e ha abolito le classi e le scuole speciali. Qualche provvedimento del governo è stato adottato per quanto riguarda l'inclusione, però parliamo del sostegno, chiaramente tutti i cari gli insegnanti di sostegno non bastano mai, alcune volte non sono adeguati perché non sono preparati in maniera specifica, ne occorrono sempre di più e soprattutto il sostegno deve essere costante, non può dipendere dalle disponibilità di un'amministrazione, ma deve essere una cosa che deve durare 365 giorni l'anno e deve essere 24 ore su 24 ore, comprendendo il sostegno a scuola e poi l'aiuto a casa, ma pare che su questo argomento ci siamo arrivati. Ecco, cosa si può fare ancora di più? Ma bisogna intanto ringraziare... Io ho la mia idea, scusa, ti interviro la mia idea perché siccome ho vissuto l'esperienza amministrativa so che per esempio interviene il comune per un determinato tipo di sostegno alle scuole, poi interveniva la ex provincia, invece secondo me occorre un intervento unico che dovrebbe essere dello Stato, per fare un intervento univoco è uguale per tutti. Ma intanto bisogna ringraziare i tanti insegnanti di sostegno che svolgono con dedizione il proprio lavoro, ce ne sono tanti preparati in gamba che praticano l'inclusione e la fanno funzionare. Accanto a questo non abbiamo necessità di rafforzare ancora di più la formazione degli insegnanti di sostegno, bisogna intervenire sulle singole disabilità con una soggettività che riguarda il ragazzo disabile che naturalmente è diversificata, quindi bisogna costruire formazione per gli insegnanti di sostegno che si differenzi per i ragazzi autistici, per i non vedenti, per chi soffre rispetto alla difficoltà di deambulazione, quindi bisogna formare insegnanti di sostegno per l'inclusione scolastica ma anche con la conoscenza della patologia con cui si raffrontano. Poi bisogna dare continuità al sostegno, noi nella riforma di sostegno prevediamo che gli insegnanti di sostegno lo devono essere almeno per dieci anni, molto spesso l'accesso all'insegnamento è stato un accesso, che ha utilizzato il sostegno per entrare e poi si è subito chiesto il trasferimento di insegnanti curriculari svuotando le categorie di sostegno. Chi fa l'insegnante di sostegno sa che ha una missione, segue i ragazzi disabili e costruisce inclusione a scuola, che è uno strumento formativo non soltanto per gli insegnanti disabili, per i ragazzi disabili, ma lo è anche per i ragazzi che disabili non sono, perché quando tu costruisci inclusione in classe, quell'inclusione lì, quella formazione di quei ragazzi vale più spesso delle materie curriculari, non bisogna snobbare un lavoro che è importantissimo, poi accanto a quello naturalmente bisogna costruire percorsi di sburocratizzazione, oggi avere le ore di sostegno è un tormento per le famiglie e per i ragazzi disabili costretti a visite continue, se un ragazzo è autistico lo è, non può guarire purtroppo, quindi perché devi chiamare a visita all'Inps costantemente un ragazzo che non può guarire, facendolo soffrire rispetto anche alle file che deve fare all'Inps, all'attesa e far soffrire i genitori, ci sono tante cose su cui si può intervenire per alleviare le sofferenze delle famiglie. Senti, devo fare una piccola precisazione, perché quando parlavo di sostegno io mi riferivo anche al personale ausiliario che deve aiutare gli insegnanti di sostegno, perché altrimenti non abbiamo fatto nulla, siccome queste sono competenze degli enti locali, bisognerebbe far sì che sia tutta competenza dello Stato, perché non è possibile diversamente, si creerebbero dei trattamenti differenti tra zone diverse anche di una stessa città. Assolutamente sì, tra l'altro la cosa peggiore che ha accaduto in Sicilia è con la chiusura delle province, la pseudo chiusura delle province, perché poi sono state mantenute in vita, di fatto si è interrotto il servizio di assistenza ai disabili, cioè sul trasporto di assistenza a scuola, con una condizione in cui i ragazzi disabili si sono ritrovati in Sicilia senza nessuna assistenza, perché lo Stato non se ne poteva occupare perché se ne occupavano le province e le province non lo facevano in questa transizione, quindi da questo punto di vista sono d'accordo con te Filippo che questo è un sistema che va regolamentato e va gestito con un governo da parte dello Stato, non ci si può affidare all'estemporaneità. E allora, non volevamo parlare di politica perché ritenevamo che determinati argomenti sono importantissimi e vanno affrontati, trattati in maniera chiara, così come abbiamo fatto, però la politica è pure importante. Dicevamo c'è stata una batosta dopo il referendum, questa batosta non ti ha affermato, non vi ha affermato, anzi vi ha dato lo spunto per ripartire. In che modo tu intendi ripartire? Ma sicuramente la sconfitta... Ma infatti io credo che la sconfitta serva per comunque da lezione, per capire laddove si è sbagliato e per correggerli gli errori. L'arroganza credo che sia uno dei mali di questa società, l'umiltà credo che possa essere invece una buona base di partenza. Ci sono tante questioni, tante riforme che noi abbiamo introdotto in questo Paese, che non rinnego, abbiamo parlato della scuola, parliamo anche del Jobs Act, della tentata riforma dello Stato. Il problema è stato che molto spesso abbiamo costruito un percorso che magari partiva tanto dall'alto e si confrontava poco con i cittadini. Noi dobbiamo recuperare il rapporto con i cittadini, abbiamo avviato questa idea in Sicilia di cambiamenti che è un soggetto politico, un movimento che ha sede in Via Libertà e che mira a costruire partecipazione e mira a costruire un programma per il cambiamento di questa regione. Allora tu dici che i cambiamenti non saranno una segreteria politica, un comitato elettorale, ma uno spazio collettivo di idee, non il luogo dell'io ma del noi, aperto e plurale, che farà del confronto alla sua cifra stilistica, un faro dell'innovazione del movimento contro la conservazione dell'immobilismo. Sì, io credo che purtroppo la politica... L'hai scritta tu questa cosa? L'ho scritto io nel giorno della presentazione della sede di cambiamenti, abbiamo inaugurato qualche giorno fa. Io credo che purtroppo in Sicilia la politica trasversalmente, destra, sinistra, con dentro i 5 stelle, sia una politica che mira molto alla conservazione. Noi abbiamo bisogno di introdurre strumenti e politiche nuove in regione Sicilia, che non sono state introdotte dai governi che si sono succeduti, anche se avevano colori diversi. Il governo Cuffaro di centrodestra, quello Lombardo, aveva un po' tutti i colori, e questo attuale centrosinistra. Di fatto le politiche sono state assolutamente in continuità. Non ci si è preoccupato dei giovani che vogliono realizzare start-up, ci si preoccupa sempre di dare risposta all'esistente, giustamente, i precari, forestali e altro, ma ci si preoccupa poco della Sicilia del futuro, dei lavori nuovi, del lavoro privato, degli imprenditori che decidono di investire e hanno bisogno dei soggetti pubblici che li aiutino. Tutto questo vengono degli inceneritori, strumenti che servono per togliere i rifiuti dalle strade, anziché lasciarli lì, e che vengono utilizzati in tutto il mondo, e qui sono parole tabù, delle infrastrutture. Il ponte non è un crimine, il ponte è un'infrastruttura decisiva che serve anche ad adeguare le infrastrutture che ci stanno intorno e renderle di livello elevato perché dovranno essere coerenti a quella infrastruttura principale. Per cui io credo che ci sono un po' di parole tabù che dobbiamo sfatare e dobbiamo soprattutto mettere in campo un po' di azioni concrete. Una cosa che non ho capito è che chi ti chiede, dice, è aperta a tutti però, tu ti riunisci con 200 innovatori nel campo dell'economia, della cultura, della politica e dell'arte, quindi è un circolo chiuso, come funziona? No, sono più strumenti che abbiamo messo in campo. Da un lato un pensatoio che si riunirà nei prossimi giorni e che getterà le basi per dei documenti di discussione aperti a tutti. Da questi innovatori, vi diremo presto anche i nomi, saranno persone di qualità, le intelligenze migliori credo che ci siano in Sicilia. Accanto a questo ci sarà una piattaforma informatica che si chiama iMille, a cui tutti potranno partecipare e tutti si potranno iscrivere. E naturalmente partiremo da quell'elaborazione per poi costruire un'elaborazione più diffusa, profondamente innovativa. Tutti coloro che vogliono conservare lo status quo, tutti coloro che pensano che così va bene, non sono ospiti graditi. E questo riuscirà a battere il partito della conservazione di cui tanto parli. Ma noi ci dobbiamo provare. Io ricordo quando Renzi è diventato presidente del Consiglio, Tutti abbiamo fatto parte di questo partito della conservazione, anche se involontariamente. Tra l'altro io non credo abbia colore. sta dentro la sinistra, sta dentro la destra, sta dentro i moderati. Purtroppo molto spesso, l'ho detto poco fa sulla scuola, ma in Sicilia vale ancora di più, tenere le cose come stanno vuol dire avere la certezza di costruirsi poche inimicizie. Non è un rischio uscire da questo partito della conservazione, non si rischia di essere messi fuori proprio dalla società e dalla vita politica. Ma io credo che sarà un rischio, ma è quello che serve alla Sicilia. Ecco, che cosa serve alla Sicilia? Serve un nuovo presidente della regione? Tu hai parlato di primarie. Ora in quest'ultimo periodo ne parli ancora? Sei convinto che ci vogliono le primarie? Oppure appoggerete Crocetto? Assolutamente sì, sono sempre più convinto. Lo dico con coerenza da un po' di anni a questa parte. Crocetto è stato eletto presidente della regione con una grande spinta e una grande idea di cambiamento. Di fatto invece quello che è accaduto è che rispetto agli annunci non si è praticato nulla di diverso rispetto a quello che è accaduto nel passato. Le cose positive introdotte in questa stagione di governo regionale sono state tutte introdotte con una mano da parte del governo nazionale. penso alla chiusura a stagioni precarie agli enti locali penso al patto per la Sicilia una serie di risorse per le infrastrutture pubbliche penso al risanamento del bilancio regionale tutta una serie di misure che abbiamo costruito in questi anni che però non hanno visto il governatore protagonista ma molto spesso è stato colui che ha subito questi processi di innovazione. Ma se le primarie non sono previste per legge come si può assicurare uno svolgimento regolare di questa consultazione? Io devo dire noi abbiamo fatto le primarie in tutta Italia i casi di irregolarità, le primarie sono stati casi puntuali, precisi e infinitamente minoritari la stragrande maggioranza dei casi di primarie che ha svolto il Partito Democratico sono stati regolari e hanno visto una grande partecipazione di donne e uomini. Ti potrebbero vedere protagonisti queste primarie? Ma io credo che intanto sia necessario farle queste primarie per far partecipare i cittadini quando ho detto con umiltà ascoltiamo più che facciamo è basta intendo anche far partecipare i cittadini alla scelta della classe dirigente e poi credo che ci debba essere uno, qualcuno, una donna, un uomo che si prenda la responsabilità di innovare e di cambiare credo che chi sarà è assolutamente secondario però quell'idea a cui ho fatto riferimento poco fa gli innovatori, coloro che vogliono cambiare vogliono introdurre anche in Sicilia la modernità l'intervento degli imprenditori che vogliono introdurre strumenti per i giovani debbano candidarsi alle primarie per cambiare questa regione Quindi aperte a tutte, primarie aperte a tutte non a singoli Senti invece per quanto riguarda il Comune di Palermo siamo obbligati a trattare questo argomento tu in passato avevi il piacere di diventare sindaco di Palermo hai tentato la primaria e poi non ci sei riuscito ora hai abbandonato, sembra questa idea anche se tu sai benissimo che essere sindaco di Palermo è un motivo, un grande motivo di orgoglio perché Palermo è una città bella è una città storica, importantissima e quindi è veramente un onore essere il primo cittadino di questa città ora però vengono fatti strani il Partito Democratico non è stato molto d'accordo con Orlando ora sembrerebbe che lo voglia appoggiare pur di, diciamo, rinuncerebbe anche al simbolo si è superato questo problema o ancora persiste? ma intanto il fatto del simbolo è un fatto che è molto legato anche all'ipotesi di costruzione di elezioni con la contemporaneità con le elezioni nazionali o no nel senso che vedremo domani c'è la sentenza della Corte Costituzionale sull'Italicum sulla legge elettorale vedremo che cosa dirà la Corte Costituzionale e che tempi ci vorranno per cambiare la legge elettorale e quindi si capirà anche quando si andrà a votare le elezioni nazionali se le elezioni palermitane saranno delle elezioni che si svolgeranno in contemporanea le nazionali i simboli ci dovranno essere ma credo che sia un fatto corretto altrimenti se si decide di fare un percorso civico dentro la città di Palermo io non mi scandalizzo se voi ascoltate già ora quello che si dice in giro si parla di 30 liste civiche a supporto di vari candidati quindi vuol dire che ci saranno tantissime liste che prescinderanno dai partiti e dalle appartenenze nazionali per cui se si sta dentro quel filone nessuno scandalo il tema è capire cosa si vuole fare cosa si vuole fare per la città e al tempo stesso che progetto politico si vuole mettere in campo perché noi abbiamo già perso a Torino a Roma e a Napoli per le divisioni del centro-sinistra e quella lezione ci deve essere utile per evitare di ripeterla anche qui di fronte a due già autocandidatisi esponenti di centro-sinistra almeno che quella provenienza hanno se noi aggiungiamo anche il terzo senza preoccuparci prima di tentare invece una ricomposizione in unità del centro-sinistra che va dalle forze moderate che hanno sostenuto Renzi in questi anni fino alle forze più a sinistra se non proviamo questo progetto a Palermo per poi riprovarlo in regione e anche in ambito nazionale vorrebbe dire tentare di frammentare e di ridurre anche le possibilità di vittoria noi invece questo tentativo lo dobbiamo fare se poi non ci dovessi riuscire è chiaro che staremo in campo e lo faremo per vincere è un argomento troppo vasto spero che ne possiamo riparlare in un'altra occasione però l'ultima domanda è sulla rete ospedaliera perché tu avevi fatto cenno appunto all'approvazione della nuova rete ospedaliera purtroppo il tempo è sempre poco e quindi non l'abbiamo potuto sviluppare però mi sembra opportuno che tu ti pronunci su questo argomento io spero in qualche giorno nemmeno settimane di poter dare questa gradita notizia alla Sicilia rispetto all'approvazione di una rete ospedaliera che sia una rete ospedaliera moderna fatta sulle esigenze dei cittadini ritagliata sulle esigenze dei cittadini e non di chi vuole fare il primario e neanche sull'idea di chi taglia nella sanità a prescindere senza pensare ai cittadini e al tempo stesso anche sbloccare subito dopo i concorsi in modo da poter fare assunzioni in Sicilia che servono agli ospedali servono alla sanità in genere perché molto spesso manca il personale e quindi il servizio si svolge in maniera negativa Perfetto, noi concludiamo qui questo nostro incontro io ti ringrazio per questa partecipazione ringrazio tutti i cittadini che ci hanno ascoltato buonasera a tutti ringrazio tutti i cittadini che ci hanno ascoltato